dal Vangelo secondo Marco in quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni i figli di Zebedeo dicendogli maestro vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo e gli disse loro che cosa volete che io faccia per voi gli risposero concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra Gesù disse loro voi non sapete quello che dite no pardon quello che chiedete dal Vangelo secondo Marco allora Vangelo di domenica 20 ottobre dal Vangelo secondo Marco dal Vangelo secondo Marco in quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni i figli di Zebedeo dicendogli maestro vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo e gli disse loro che cosa volete che io faccia per voi gli risposero concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra Gesù disse loro voi non sapete quello che chiedete potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato gli risposero lo possiamo e Gesù disse loro il calice che io bevo anche voi lo berrete e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo è per coloro per i quali è stato preparato gli altri dieci avendo sentito cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni allora Gesù li chiamò a sé e disse loro voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono tra voi però non è così ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti anche il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti parola del signore Gesù sta preparando i discepoli ad affrontare la oscurità della sua passione morte e la luce della risurrezione ma è molto difficile per loro e anche per noi entrare nella logica della croce sono attaccati al loro sogno di restaurazione del regno di israele allora sentiamo qui addirittura Giacomo e Giovanni questi due fratelli irruenti chiamati da Gesù i figli del tuono che chiedono di sedere nella tua gloria nella gloria di Gesù una gloria intesa in maniera molto terrena uno alla tua destra e uno alla tua sinistra cioè quando tu instaurerai il regno di israele vogliamo essere il ministro degli interni e il ministro degli esteri e infatti Gesù risponde voi non sapete quello che chiedete potete bere il calice o essere battezzati nel battesimo che io devo ricevere cioè potete anche voi attraversare quel calice bere quel calice di sofferenza e attraversare quell'immersione nel buio più totale nella morte che Gesù attraverserà ma loro non capiscono e dicono sì sì lo possiamo va bene lo farete anche voi passerete ma non avete capito niente perché non è un regno terreno quello che io prometto e gli altri che hanno sentito gli altri apostoli si arrabbiano perché fra loro ancora la mentalità è molto terrena è molto terrena perché volevano essere gli altri volevano essere anche loro alla destra alla sinistra volevano essere anche loro nei primi posti e Gesù per l'ennesima volta insegna che c'è un'altra logica la logica del mondo è quella dove i grandi potenti calpestano gli altri dove ci si arrampica sopra gli altri ma non è questa la logica della comunità di Gesù tra voi però non è così ecco tra voi però non è così cioè non deve essere così tra i discepoli di Gesù la logica deve essere un'altra chi vuole essere il primo sia lo schiavo di tutti sia il servo di tutti chi vuole essere il più grande nel regno di Dio si mette in ginocchio a lavare i piedi perché quella è la posizione che ha scelto Gesù che non è venuto per farsi servire ma per servire e dare la vita in riscatto per molti Gesù ha scelto l'ultimo posto ha scelto quello il posto del servo ha scelto il posto di chi lava i piedi ma e se vogliamo stare con lui bisogna che anche noi scegliamo il luogo del servizio il luogo del nascondimento l'ultimo posto perché allora occuperemo il primo nel regno di Dio